Se si blocca per due giorni gli impianti si deve recuperare, stiamo recuperando, abbiamo recuperato quasi tutto, stasera e la prossima notte recupereremo il resto, abbiamo avuto come ho già spiegato più volte, un'anticipata chiusura a capodanno e dei guasti per un giorno sappiamo tutti che come c'è un guasto, come c'è un'interruzione, come c'è un problema ci sta una sofferenza, questo ormai lo sappiamo tutti e così bisogna evitare che accade, poi vigiliamo anche che non ci sia qualche furbetto che vuole sempre speculare sui rifiuti, perché gli interessi criminali, la camorra e i nemici di Napoli stanno sempre in agguato.